Voglio semplicemente ringraziare parte Giampiero Panvini che è sempre sensibile ad ogni tema riguardante la solidarietà, chi ci ha donato questo defibrillatore, che è la signora Bonanno che è passata da poco a miglior vita, aveva questo desiderio di donare dei defibrillatori alle realtà del terzo settore del Comune di Catania, mi ha contattato e abbiamo veicolato questi defibrillatori anche ad altre realtà del terzo settore che operano in città. Il mio è un sentito ringraziamento a lei, alla sua famiglia e ovviamente a tutti voi che quotidianamente svolgete un'azione straordinaria all'insegna della solidarietà e della generosità. Ringrazio in particolare, consentite l'assessore Lombardo che si è imprudicato a trovare un'opportunità di farci donare da una donatrice volontaria a questo defibrillatore, a questa signora che sono stati dati agli enti che ne avessero bisogno. Questo è un piccolo segnale che noi vogliamo dare.